Abbiamo giocato bene, era una partita molto importante per noi perché contro una squadra come Montichiari e Il Bisonte dobbiamo fare ancora di più e dobbiamo provare a prendere i punti. Abbiamo fatto, abbiamo giocato bene anche dopo la partita contro Casa Maggiore. Era difficile, era una partita difficile. Ok, è Casa Maggiore ma non abbiamo giocato bene contro loro e abbiamo cambiato il nostro gioco e è andata molto bene. Secondo me la nostra squadra, noi è normale, abbiamo bisogno di un po' di tempo per trovare il nostro ritmo e anche il nostro gruppo e il nostro gioco. Ma è sempre importante spingere in battuta e così noi lavoriamo tanto su battuta e anche in ricci e così arriviamo. Ciao! 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 Ciao!